Avere un nome è il primo passo per esistere, anche online. Il nome su internet si chiama Dominio ed è l'indirizzo utilizzato per visitare un sito web. Se il sito è la tua casa, il Dominio è l'indirizzo esatto per raggiungerla. Per ottenere un Dominio basta registrarlo su aruba.it, scegliendo le opzioni disponibili tra centinaia di estensioni. Ad esempio il tuo nome .cloud. Il Dominio ideale per i tuoi progetti innovativi, gestito proprio da Aruba, l'anagrafe dei domini .cloud. Più varianti del nome registri, più proteggi il tuo marchio. Il Dominio è la parte fondamentale della tua presenza online, per apparire e comunicare in modo professionale. Perché il Dominio è anche il nome riportato dopo la chiocciola in un indirizzo e-mail e noi di Aruba forniamo 5 caselle di posta personalizzabili. Sono tante le funzionalità che includiamo al tuo Dominio, come Swyte, il sito che si crea e si aggiorna automaticamente con i contenuti dei tuoi social. Offriamo i migliori strumenti per costruire i tuoi progetti online, da data center proprietari in Italia e lo facciamo da quando esiste il web. 2,7 milioni di domini fa. Aruba Domini. Il tuo nome. Punto.